Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sorbetto veloce al bergamotto. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa due minuti. Gli ingredienti sono succo di bergamotto biologico al 100%, zucchero e ghiaccio. I quantità degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo polverizzando lo zucchero, mettiamo lo zucchero nel boccale e andiamo a polverizzarlo per 10 secondi a a velocità 10. Veniamo sul fondo lo zucchero con la spanola, aggiungiamo il succo di bergamotto e il bottiglia. E tridiamo il tutto per 40 secondi a velocità 8, sfatonando. Il nostro sorbetto è pronto. È possibile aggiungere lo sciroppo di menta per rendere il gusto leggermente più dolce. Andiamo ad avanti amare il composto per 10 secondi a velocità 4. sorbetto è pronto. Andiamo a riempire i nostri bicchieri. Sorbetto veloce al bergamotto. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.